L'ultimo libro che ho scritto e che si intitola Siria e i cristiani nella guerra è stato pubblicato adesso, ma è il frutto di un germe piantato nel 2003, negli ultimi giorni di febbraio del 2003, cioè pochissimo prima dell'attacco e dell'invasione anglo-americana contro l'Iraq di Saddam Hussein. Io sono a Baghdad e sto intervistando il vescovo vicario di Baghdad della chiesa caldea cattolica Monsignor Islemon Warduni nella sua chiesa e in quel periodo Monsignor Warduni faceva anche funzioni di patriarca della chiesa caldea cattolica perché il patriarca era molto malato e infatti di lì a non moltissimo poi morì. E Monsignor Warduni ricordo che mi diceva con grandissima angoscia voi giornalisti dovete dire ai vostri lettori, ai vostri governi, ai vostri paesi, che questa guerra non si faccia perché questa guerra se si farà sarà un disastro colossale, non farà che amplificare i problemi del paese, i problemi della regione e voi europei, voi occidentali non conoscete questi paesi, non conoscete questa regione, non sapete che disastro state preparate. Io pubblicai queste interviste, poi naturalmente l'invasione ci fu, la guerra ci fu eccetera, pubblicai queste interviste su Famiglia Cristiana e cominciarono ad arrivare lettere di insulti nei confronti di questo prelato che veniva giudicato come un complice di Saddam Hussein, un corrotto, un vile perché forse ci fa bene ricordarlo a quell'epoca nel 2003 tutti gli intelligenti nel senso proprio di intelligenza, tutti gli opinion makers, i grandi giornalisti, gli analisti, i politici, erano tutti convinti che quella guerra fosse una idea geniale, che bisognasse farla, che c'erano le armi di distruzione di massa eccetera eccetera, gli stessi che anche oggi poi pontificano sul Medio Oriente, su queste questioni. La guerra ci fu e fu esattamente come aveva prodotto Monsignor Guardoni, un colossale disastro, le cui conseguenze abbiamo poi visto dipanarsi per tutti questi anni, tra Al-Qaeda, l'Isis, insomma chi più ne ha più ne mette. E io allora, già allora cominciai a chiedermi, in una maniera un po' così, forse nel subconscio, ma cominciai a chiedermi ma com'è che quando una persona, palesemente colta, preparata, onesta, un iracheno che ha vissuto tutta la vita lì, che non ha alcuna particolare simpatia in quel caso per Saddam Hussein eccetera, ci dice state attenti, forse vi state sbagliando, attenzione, attenzione, noi lo trattiamo, lo prendiamo a male parole, lo consideriamo servo di qualcuno, complice di qualcuno. E' possibile che noi abbiamo la presunzione di conoscere meglio quelle terre e quei popoli di coloro che invece ci vivono e ne sono parte? Ecco, di questo atteggiamento che ha segnato tutti questi decenni di rapporto tra l'Occidente e il Medio Oriente, mi è sembrato, da cui le ragioni per la scrittura di questo libro, che la Siria fosse il caso più emblematico, perché la Siria aveva questa corposa minoranza cristiana, prima del 2011 circa il 10% della popolazione, questi cristiani avevano storicamente partecipato all'elaborazione dell'idea stessa di nazione siriana. A fine ottocento, primi novecento, 8-9 su 10 dei pensatori e degli intellettuali che lavorano intorno all'idea del nazionalismo siriano sono cristiani. Ecco, allora questa minoranza nei numeri, ma componente essenziale in realtà nella sostanza del paese, che si era spessissimo pronunciata per le riforme perché venisse cambiata la sostanza economica e politica del paese, comincia a dirci, stati attenti, che qua non sta succedendo esattamente quello che voi credete qua in Siria. Non è esattamente questa rivoluzione del bene contro il regno del male che voi immaginate e andate raccontando. Ecco, immediatamente anche questi, anche i cristiani di Siria, sono stati derubricati a complici di Assad, il loro parere non conta, non bisogna ascoltarli perché sono dei venduti. Questo detto, naturalmente la nostra stampa non è così chiara, infatti vende sempre meno copie, ma il concetto era questo. Ora, noi abbiamo visto che ancora una volta la storia, i fatti, hanno dato ragione a coloro che ci dicevano, nel caso specifico di Siria, di stare attenti. Perché quello che abbiamo visto è che sulle ragioni concrete e nobili della primavera siriana del 2011, che c'erano e come, è in abbondanza, appunto, ragioni economiche, ragioni politiche, riforme che avevano arricchito pochi e impoverito tantissimi, un regime che non è mai saputo mantenere neanche una delle promesse riformatrici con cui si era presentato nel 2000, quando appunto Assad, il giovane, era diventato presidente. Insomma, c'erano un sacco di ragioni molto concrete e molto nobili, perché la popolazione siriana manifestasse, dopo averlo fatto in maniera molto soft, molto tranquilla, con appelli, manifesti, eccetera, manifestasse la propria insoddisfazione in una maniera più vigorosa. Però è un dato di fatto, assolutamente dimostrabile, e infatti nel mio libro, questo sulla Siria, che sta nella guerra, e altri libri di altre persone molto più in gamba di me, ci sono abbondantissime prove, documenti, eccetera, di questo fatto, su questa protesta nobile e concreta si sono inseriti fin da subito i piani di altri, di forze esterne, che non avevano assolutamente in mente di democratizzare la Siria, avevano in mente di distruggerla. E mi riferisco alle pietromonarchie del Golfo Persico, alla Turchia, a tutta una serie di paesi che hanno goduto dell'appoggio incondizionato dei paesi occidentali, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, qual è il punto di tutto questo? Il punto non è una questione di patriottismo politico-religioso, cioè difendiamo i cristiani perché sono cristiani, perché anche noi, più o meno vagamente, forse lo siamo stati, siamo tutti battezzati, questo continente europeo una volta era un continente cristiano, eccetera, eccetera. Il punto non è questo. Il punto è che tutte le minoranze del Medio Oriente, e quindi ovviamente in primo luogo la minoranza cristiana, che è la più corposa, sono un elemento fondamentale della residua stabilità della regione, e lo sono per delle ragioni piuttosto evidenti. Intanto, io l'ho detto una volta, l'ho scritto una volta come battuta, ma sono i più arabi tra gli arabi, perché loro, i cristiani, erano lì secoli prima dell'avvento dell'Islam. C'erano nell'attuale Arabia Saudita dei regni cristiani secoli prima della nascita di Mahomet. Quindi nessuno può dirsi Medio Orientale quanto loro, nessuno ha la conoscenza di questa regione quanto loro. In secondo luogo, i cristiani in quindici secoli di esistenza del mondo islamico hanno maturato un'esperienza unica, i cristiani del Medio Oriente hanno maturato un'esperienza unica, cioè quella di non solo vivere in una società così largamente maggioritaria nel senso dell'Islam, ma anche, e quindi di sopravvivere anche individualmente, di conservare la loro fede, ognuno. Ma gli hanno fatto molto di più, perché in un mondo dove l'Islam, come tutti sanno, credo che non sia offensivo nei confronti di nessuno, l'Islam ma ha una vocazione monopolistica, esclusivistica, tanto è vero che concede alle altre religioni di esistere al proprio interno, le religioni del libro, eccetera, eccetera. Ecco, in un ambiente così, i cristiani in quindici secoli sono riusciti a mantenere, non solo la, diciamo, la fede individuale, ma soprattutto a mantenere nel segno della loro fede una presenza collettiva pubblica, manifesta, non segreta, non clandestina, e anzi attiva e fondamentale all'interno delle società di appartenenza. Voglio dire, uno va in Egitto, va in Libano, va in Siria, va in Iraq, vede le chiese, vede i preti, vede le suore, vede le loro opere, vede gli ospedali, vede le scuole, vede gli interventi di assistenza sociale, sono pubblici e sono parte integrante della società in cui si trovano ad operare. E questa è un'esperienza unica, nessuno di noi sa come si fa, come si arriva a costruire questo equilibrio. E in terzo luogo, che è poi, secondo me, la considerazione fondamentale, laddove esistono e resistono le minoranze cristiane, esiste e resiste, indipendentemente dalla natura del paese, dalla sua storia, dalla sua tradizione, dal suo regime politico, esiste e resiste un'idea di pluralità. Se le minoranze cristiane, per ipotesi, sparissero dal Medio Oriente, la regione resterebbe abbandonata a questo ping pong, che spesso diventa violento, spesso diventa incontrollabile, tra musulmani sunniti e musulmani sciiti. La presenza delle minoranze, e ripeto, di tutte le minoranze, ma quella cristiana, la più corposa, parliamo di lei, garantisce che ci sia almeno una triangolazione, garantisce che ci sia un terzo parere, che è un parere particolarmente importante e autorevole, perché i cristiani sono l'unica tra le componenti più significative del panorama medio orientale, che non hanno le armi, non le vogliono, programmaticamente non le vogliono, e non hanno mai aspirato ad un regime particolare, ad un pezzo di terra. Non c'è mai stato il tentativo di costruire da parte dei cristiani medio orientali uno stato cristiano, un enclave cristiana, un'autonomia cristiana. Quindi è per questo che i cristiani sono particolarmente autorevoli, perché il loro parere è un parere, non dico disinteressato perché anche loro vogliono difendere le loro comunità, ma è un parere che non è accusabile di pretese politiche, di smanie, di ambizioni particolari. Quindi questo è solo per dire che proprio la presenza della minoranza cristiana è un argine fragile alla degenerazione dell'intera regione, è un argine molto fragile, ma indispensabile e forse è l'unico che abbiamo. Perché i nostri, quelli che abbiamo cercato di imporre noi, gli argini delle bombe, delle armi, della prevaricazione politica, non hanno funzionato, mai. È più di un secolo che non funzionano, è dal trattato Saix-Picot del 1916 che non funziona niente di quello che noi facciamo lì dentro. Quindi è ovvio che bisogna cambiare strada e secondo me questo cambiamento di paradigma non può non passare da un impegno molto fattivo e molto concreto di difesa delle minoranze e ovviamente ripeto, siccome si tratta di gran lunga e della più corposa, della minoranza cristiana.